Buon poveriggio e buona via di settimana anche dal telegiornale. Oggi è il 18 maggio, quindi seconda data di riapertura dopo il 4 maggio, che aveva già fatto in modo di creare un primo scoglio, un primo step di riapertura. Ora invece da oggi si riapre praticamente tutti i negozi possono riaprire, anche quasi tutti i settori merciologici rimangono chiuse piscine e palestre per le quali si vedrà il 25 di maggio, teatri e cinema invece il 15 di giugno. Questi perlomeno sono gli step per quanto riguarda le riaperture. Giornata frenetica perché da oggi non è più necessaria l'autocertificazione per uscire di casa, possiamo tornare a uscire liberi entro però i confini della nostra regione. E allora vediamo subito per quanto riguarda gli spostamenti, cosa è consentito e cosa è no. Entriamo pieno nella fase 2. Oggi iniziano le riaperture e cadono i divieti di spostamento all'interno della regione. Niente più autocertificazione quindi che resta obbligatoria solo per varcare i confini regionali con i soliti motivi di necessità come le comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, motivi di salute o rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. Si potranno incontrare quindi anche gli amici senza limitazioni, ma occhio, resta in vigore il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Per spostarsi da una regione all'altra dovremo attendere il 3 giugno, così come per gli spostamenti internazionali nell'area Schengen, con la speranza di un briciolo d'ossigeno anche per il nostro turismo. Attenzione ai numeri però, poiché gli spostamenti potranno essere limitati con appositi DPCM in specifiche aree del territorio, sulla base del rischio epidemiologico. Le persone sottoposte a regime di quarantena non possono ovviamente lasciare la propria abitazione. Queste dunque le linee generali, vi ricordo anche che sul nostro sito internet, livebrescia.tv, trovate anche tutte le linee guida che sono previste. Eccolo qua, riaperture, le regole negli allegati del DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Linee guida per le riaperture, allora andiamo a sintetizzare anche queste. Oggi riaprono le attività economiche di vendita al dettaglio, inclusi centri commerciali e mercati all'aperto, esercizi legati alla cura della persona come ad esempio parrucchieri e centri estetici, servizi di restaurazione e stabilimenti balneari. In linea di massima le norme da seguire sono la distanza interpersonale e gli ingressi dilazionati nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli e linee guida nazionali. In Lombardia sarà obbligatorio misurare la temperatura corporea dei clienti nei ristoranti e se tutto il territorio regionale resta l'obbligo di indossare la mascherina. La mancata attuazione dei protocolli o delle linee guida regionali e nazionali che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le regioni dovranno poi monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e se necessario potranno adottare misure derogatorie, ampliative o restrittive. Lo potremmo definire allora oggi il primo giorno di libertà senza autocertificazione, liberi di andare dove vogliamo, di incontrare chi vogliamo, amici compresi che non vediamo praticamente da quasi tre mesi. e i bresciani cosa dicono di questa prima giornata? Un piccolo tour in città, oggi l'abbiamo fatto. Posso chiedervi com'è questo primo giorno senza più la certificazione, potendo girare tranquillamente? Speriamo bello, speriamo bene, non so, però vedo tanta confusione, siamo spaisati ancora. Com'è questo primo giorno senza restrizioni? Come tutti i giorni. Ma è un po' più contenta che si possa circolare sia nei negozi aperti o è più preoccupata? Con le dovute cautele, sì. Le regole le abbiamo, mascherina, guanti, le abbiamo, distanze. Facciamo un po' di pubbliche relazioni, però... Ma è contenta? Molto. Molto. Siamo un po' rinati. Bellissima, bellissima. Sono molto contenta, certo, bisogna stare attenti. Sì, bisogna essere prudenti perché non è ancora finita. Ha capito? Però il fatto di andare in giro... Sì, vede? Siamo stati tre mesi di più in casa perché noi proprio abbiamo... Siamo stati molto attenti e di non uscire, a parte che le mie figlie non volevano assolutamente, però adesso il fatto di poter uscire, non dico tanto andare nei supermercati così, però fare la passeggiata, insomma, è tutta un'altra cosa. Bellissima, prendiamo un po' d'aria, tutto avvene, un po' di shopping e si va avanti. Preoccupata? No, no. Bisogna essere ottimisti, prenderla alla leggera, diciamo così. E anche i commercianti ci sono sembrati ottimisti e qualcuno con proprio tanta voglia di aprire. Vediamo. Primo giorno, voi come avete riaperto? Beh, riapriamo stamattina e con tutti i protocolli sicurezza, quindi riapriamo felici di rivedere i nostri clienti a ritorno da questo lockdown. Ci sono particolari restrizioni per i clienti, ad esempio voi avete occhiali per indossarli, per provarli? Gli occhiali vanno igienizzati tutti, prima e dopo la prova da parte del cliente e ovviamente vanno rispettate tutte le norme di sicurezza. Come avete riaperto? Un po' non molto bene, un po' poca gente e ancora un po' forza di paura. Per il resto ci proviamo. Da un punto di vista della struttura, voi avete però messo tavolini, quindi avete distanziato tutto? Abbiamo messo tutti i distanziamenti come da legge, sia dentro che fuori e adesso aspettiamo che si muova un po' di gente. Secondo lei c'è ancora un po' di paura? Sì, sì, tanta paura ancora. Per adesso almeno, dopo si vedrà i giorni che verranno. Speriamo che si riprenda un po' perché sennò qua la vedo dura, molto dura. Come state riaprendo? Pulendo, pulendo e pulendo. Poi speriamo in bene, perché è triste, molto triste. Però vogliamo vedere, guardare avanti. Per voi come sono le regole? Le regole sono che bisogna entrare con la mascherina, il distanziamento, massimo due persone alla volta, l'uso dei guanti e l'igienizzazione ogni tot di tempo, insomma, ogni tot cliente che entra. Non ci sono le regole molto chiare, però facciamo di più di quello che dobbiamo fare, quindi penso di non sbagliare. Voi vendete scarpe, è possibile ancora provare le scarpe? In che modo? Utilizzando i guanti, prima igienizzando le mani, utilizzando i guanti, è possibile provare le scarpe, sì. Questo dunque è un tour nelle varie attività commerciali per cercare appunto di capire come questa mattina hanno aperto e da oggi sono aperti anche i centri commerciali. Riapre anche, ad esempio, Elnos alle porte della città dopo oltre due mesi di chiusura. Siamo andati a vedere come riapre. L'apertura anche per Elnos. Come avete aperto? Allora, stiamo lavorando da settimane anche se con norme non molto chiarissime, quindi abbiamo messo in pratica delle misure che avevamo già testate in altri centri commerciali all'estero, quindi cercando di dividere i flussi o meglio, di convogliare i flussi su determinati ingressi dividendo tra ingressi uscite e eventualmente per isolare eventuali soggetti che non avesse le temperature a posto. Tutti gli ingressi sono previsti al momento delle termocamere e quindi chiediamo un po' di pazienza ai clienti per aspettare un attimo per misurare le temperature. Dopodiché, ovviamente, all'interno del complesso ci sono tutta una serie di diciamo di idogrammi, insomma, comunque segnali che permettono di mantenere le distanze più o meno ovunque. Ci saranno degli ingressi contingentati o meglio, prevedete un numero massimo oltre il quale non si entra? Sì, sì, è previsto, c'è un rapporto uno, un cliente ogni 7 metri quadri, quindi diciamo che attualmente la massima capienza è fissata intorno ai 6-7 mila persone che non credo che raggiungeremo in questo periodo. Per quanto riguarda i parcheggi, accorgimenti particolari per quelli? Sì, è stato, per il momento è stato chiuso il parcheggio P2 proprio per evitare il sovroffollamento e all'esterno dei parcheggi abbiamo anche ricavato delle zone pedonali dove, diciamo, i clienti possono aspettare per entrare. Tutti i negozi sono riaperti e stanno riaprendo o qualcuno invece preferisce aspettare? No, non tutti sono riaperti, credo che nell'arco della settimana dovremmo arrivare più o meno a un tre quarti, grosso modo, un 70-80% di negozi aperti. Gli altri apriranno successivamente proprio per motivi proprio organizzativi. Vuole cogliere l'occasione per dire qualcosa ai bresciani in questo periodo per chi ha deciso di venire al centro? Ma, guardi, io credo che i bresciani siano stati messi, tutti noi, siano stati messi abbastanza alla prova in questo periodo, quindi l'unica cosa che credo che bisogna fare è avere un po' di pazienza e collaborare per rispettare, diciamo, le prescrizioni. Questo ci permetterà probabilmente di uscire il più rapidamente possibile da questa emergenza. Ecco, attenzione e sicuramente pazienza per chi è in giro, ma c'era davvero tantissima gente oggi in giro sia in città che proprio al centro commerciale a Elnos quindi si percepiva la voglia dei bresciani insomma di ritornare a fare shopping di ritornare un po' alla normalità. Vediamo i dati sulle epidemiologici relativi alla giornata di ieri diffusi appunto ieri pomeriggio gli ultimi sono quelli disponibili diffusi da regione Lombardia ieri 56 nuovi positivi nel Bresciano 326 in Lombardia dati che confermano comunque che dovremo ancora convivere con il virus per un poco questo almeno è quanto sembra che il l'assessore al welfare di regione Lombardia Gallera ha commentato dicendo anche i dati di oggi indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente il rapporto tra tamponi effettuati e casi positivi nel complesso favorevole raddoppia rispetto al giorno precedente il numero dei guariti induce all'ottimismo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva entrambi in costante diminuzione questa è l'analisi dei dati di Gallera nella giornata di ieri e da oggi andiamo a Bagnolo perché la farmacia comunale da oggi ovunque da questa settimana mette a disposizione la possibilità di effettuare i test sierologici quelli pungidito con la risposta nell'arco di una ventina di minuti l'annuncio è stato proprio del sindaco del paese Cristina Almicio presso la farmacia comunale sarà possibile fare i test sierologici allora è una bella notizia perché tanti di voi mi hanno chiesto informazioni e mi hanno chiesto di approfondire la questione perché ovviamente abbiamo atteso molto tante sono le proposte che ormai sono state autorizzate sul mercato e volevamo farlo innanzitutto per dare la possibilità ad ogni persona della propria serenità e tranquillità perché quando un nonno mi dice che ha paura di toccare i propri nipotini perché non sa se è sano o comunque se ha gli anticorpi stessa cosa per chi magari invece ha superato la malattia e vuole sapere se ha maturato le difese immunitarie quindi dalla prossima settimana sarà possibile farlo tra l'altro la farmacia comunale è riuscita a spuntare un prezzo vantaggioso per tutti perché si voleva anche renderlo accessibile il più possibile alle persone il costo sarà quello di 30 euro allora sarà un test serologico ovviamente da covid-19 sangue capillare per cui verrà fatta una puntura al dito con ricerca degli anticorpi sia gli IgG che gli IgM e il risultato si avrà nel giro di 15-20 minuti e vi verrà rilasciata una dichiarazione da parte di un medico rispetto al risultato di questo test serologico è fondamentale ovviamente prenotarsi presso la farmacia comunale per poter essere messo e organizzato quelle che sono le attività di prelievo del sangue per fare questi test ovviamente i test verranno fatti da infermieri che quindi garantiranno anche sia la metodologia con il quale viene fatto il test e poi tra un intervento e l'altro verrà fatto anche un intervento di sanificazione del luogo dove vengono eseguiti è evidente che per noi è una grande vittoria perché l'obiettivo era davvero quello di poterle offrire il più possibile di farlo vicino a Bagnolo per cui poterlo fare direttamente presso la farmacia comunale vuol dire non muoversi andando magari in strutture dove si viene comunque in contatto con altre persone poterlo fare a un prezzo calmierato perché vi garantisco che è un buon prezzo e avere comunque una garanzia del risultato questo dunque per quanto riguarda i testi serologici alla farmacia di Bagnolo ora invece passiamo allo sport e se c'è fase 2 per praticamente tutto non c'è invece per lo sport per il calcio in particolare perché al momento non sono autorizzati gli allenamenti di squadra potrebbero esserlo nella giornata di oggi ma c'è ancora disaccordo tra il comitato tecnico scientifico e la FIGIC sui protocolli da osservare quindi a oggi a questo momento solo allenamenti individuali per quanto riguarda la ripartenza c'è stata anche la risposta del premier Conte nella conferenza stampa di sabato per quanto riguarda il campionato di calcio ci sono tantissimi appassionati è un tema che riceve tantissime sollecitazioni il ministro Spatafora è un ministro che sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport è molto responsabile come tutto il governo quindi bisogna prima capire e aspettare che si realizzino le condizioni per poter garantire la ripresa del campionato non solo di calcio noi parliamo solo di calcio sono tutti gli altri campionati in condizioni di massima sicurezza per fare questo per avventurarsi a fare una data bisogna avere qualche garanzia in più che in questo momento parlando con il ministro Spatafora in questo momento non c'è speriamo che sia l'inizio quanto prima e vediamo nell'evolversi della giornata che potrebbe arrivare il chiarimento anche per quanto riguarda appunto l'avvio degli allenamenti per lo meno delle squadre la quadra dovrebbe essere ormai stata individuata parliamo di basket invece perché sapete che il basket ha già rinunciato ovviamente la stagione di quest'anno però è già pronto per reclamare quella dell'anno prossimo quindi al via c'è la data e c'è appunto una già una serie di scadenze che riguardano il prossimo campionato di basket definito il calendario della stagione 2020-2021 il basket riparte il 29 agosto con la supercoppa alla quale parteciperanno tutte le squadre iscritte al campionato suddivise in sei gironi da tre 18 le squadre di Serie A nel prossimo campionato Final Four in programma il 20 settembre il 26 settembre al via il campionato vero e proprio di Serie A non è possibile al momento sapere se si potrà giocare con o senza pubblico questo comunicato ufficiale della Lega Basket al fine di integrare l'organico delle squadre oggi in Serie A la LBA ha individuato nel basket Torino Reale Mutua la società che ha totalizzato il punteggio più alto nel ranking delle aspiranti società da lei stessa predisposto lo stesso strumento sarà utilizzato qualora vi fossero ulteriori necessità di integrazione di organico da oggi quindi il basket Torino potrà iniziare il percorso dettagliatamente definito nel regolamento esecutivo della LBA per ottenere l'ammissione alla stessa nei tempi previsti e questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale ci fermiamo qui con le notizie che continuano ad aggiornarsi sul nostro sito internet livebrescia.tv sul quale come sempre potete seguire anche il canale 16 e 197 del digitale terrestre in questo riquadro che ovviamente si può espandere a tutto schermo e se volete ricevere le nostre notizie sul vostro telefonino direttamente iscrivetevi ai nostri canali Telegram livebrescia news e livebrescia sport grazie a tutti per averci seguito se volete ci vediamo alle 19 con l'edizione sanale buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti